Eravate qui, un normale posto di controllo che è successo? Ho successo che stavamo formando una fase di un controllo e stavo per eseguire i documenti alla persona Paura? Miracolo? Non lo so, credo che è praticamente il caso. Voi hai avuto tutto il socco nel caso in cui fosse crollato di prendere pieno? Già avvisato i parenti del mito tutti? Sì, sì, già avvisato. Sì, ne ho frantezza. Grazie. Qua gente c'è? No, dove 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 c'è? No, ma lui ti può fare. Grazie. Grazie, grazie.